Ciao a tutti! Oggi prepareremo le lasagne, funghi e salsiccia. Il tempo di preparazione della ricetta è di due ore circa. Gli ingredienti sono lasagne fresche, funghi misti surgelati, salsiccia senza budello, uno spicchio d'aglio, vino bianco, mozzarella tagliata a cubetti, parmigiano, olio evo, sale, pepe e besciamella bimbi. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno di imparcare il parmigiano e lo facciamo tritare per 7 secondi a velocità 10. Mettiamolo da parte. Senza lavare il boccale, mettiamo l'olio, lo spicchio d'aglio. Lo facciamo insaporire per 3 minuti, 120 gradi, velocità 1. Aggiungiamo la salsiccia ed azioniamo i bimbi per 3 minuti, 120 gradi, velocità 1. Aggiungiamo il vino bianco. Lasciamo sfumare per 2 minuti, 120 gradi, velocità 1. Aggiungiamo adesso i funghi, il pepe, il sale. E azioniamo il bimbi per 10 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità 1. Trasferiamo il composto in una ciotola e componiamo le lasagne. Mettiamo sul fondo la besciamella e livelliamo. Posizioniamo le lasagne. Mettiamo un altro strado di besciamella. Uno strado di punghi e salsiccia. La mozzarella. Il parmigiano. Uno strado di lasagna nuovamente. Continuiamo così fino a completare la lasagna. Cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 30-40 minuti circa. La lasagna è pronta, lasciamola intiepidire prima di servire. Lasagne, funghi e salsiccia. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie. 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 Grazie.